Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti qui questa sera al circolo dei lettori per la presentazione di questo bel libro scritto da una donna che io ho conosciuto, una donna qui, un saluto qui presente, che io ho conosciuto sotto gli ulivi in un posto fantastico, in un posto che fa parte a pieno diritto della mia geografia del cuore, in questo bistro degli ulivi che di fatto è un lungo 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 tavolo sotto gli ulivi a Badalucco con due lucine, mezzo un oliveto, un lungo tavolo, un orologio fermo sulle 10 e 10 e l'orologio era fermo sulle 10 e 10 perché così quando provavi ad andare a dormire magari all'una di notte, le due e cercavi di trascinarti a dormire scappando dalle meravigliose chiacchiere, meravigliose bottiglie di vino e qualcuno ti poteva sempre dire ma dove vai sono solo le 10 e 10 e questo era il motivo dell'orologio fermo e io ho conosciuto quella sera, una di quelle serie sotto gli ulivi, Paola, c'era Gian Maria, c'erano tanti amici e io la prima sera che l'ho conosciuta, l'ho fotografata, io non so fotografare, fotografo con gli occhi, l'ho fotografata e me la sono messa nel mio archivio mentale come Paola Farinetti, una schiuma di mare dopo che c'è stata la burrasca perché io ti avevo fotografato così come quell'acqua che arriva, arriva, porterà dal mare e sembra tranquilla ma tu sai che un paio di giorni prima c'era stata una storia, c'era stato qualcosa in quel mare quindi un'acqua che sembra tranquilla ma che dietro ha una storia, una storia anche di burrasca e così mi ero archiviata a Paola Farinetti nella mia testa e poi qualche anno dopo ci siamo sentite e lei mi ha telefonato e mi ha detto ciao sono Paola Farinetti, la moglie di Gian Maria, la sorella di Oscar e io le ho risposto giustamente guarda che bastava, sono Paola Farinetti perché tu sei Paola Farinetti e lei è Paola Farinetti e questo è Paola Farinetti e il suo racconto e la sua vita non la moglie di anche se ovviamente la moglie di non la vedo, la moglie di anche se è la sorella di ed è la figlia di ed è l'amica di ed è un sacco di cose di ma sostanzialmente Paola Farinetti io ho trovato subito anche comunione rispetto a questo bisogno di identificarsi come forse mi conoscete come però in realtà no, tu sei Paola Farinetti e questo sei, questo sei, questo racconti, questo hai regalato al mondo, ha deciso di regalare al mondo perché un libro è un regalo al mondo secondo me sempre, è qualcosa che non era scontato, è qualcosa che bisogna scegliere di regalare al mondo perché avete letto Il Giovane Holden e Il Giovane Holden finisci dicendo la morale della storia, non raccontate mai niente a nessuno se no poi sentite nostalgia di tutti, quando scrivi, quando racconti, quando regali al mondo qualche cosa poi senti nostalgia di tutto, fin tanto che è dentro di te lo puoi gestire in qualche modo, quando lo metti fuori cominci a sentirlo, a toccarlo, a sentirne anche la nostalgia, io penso che un libro sia sempre un regalo e questo è il regalo di Paola che non è la moglie di, la sorella di e la figlia di... Che non è un regalo, lo pagate, cioè il libro... Giusto, giustamente. Il libro, vi raccomando, questo che sia chiaro Cecilia, perché se no... Guardate che Enrica si è preparata con un foglio, cioè io non lo sapevo. Sì, ho un foglio, ho un foglio di domande, ho fatto, io sono Enrica Tesio, amica di Paola Farinetti. Grande Enrica. Enrica mi ha sopportato perché quando io ho iniziato a scrivere e poi facevo leggere Enrica e dicevo vabbè ma non ha senso e lei mi ha sopportato per tutto il tempo. Si dice sopportato, non sopportato, però io credo di averlo letto più di qualsiasi, più del Vangelo, cioè lo so a memoria. Se aprite a caso una pagina del libro io so ogni tuffo di superficie, riga per riga, sono preparatissima, proprio veramente preparatissima. Di Paola posso dire tante cose, potrei dire da tante cose, ma ve le risparmio perché voglio, tra l'altro sono ubriaca per cui non so che cosa potrei dire questa sera, quindi in generale ringrazio il servizio. C'è un fan club di Enrica Tesio. Perché fa la vodka la ragazza, io Francesca la conosco bene, quindi invece sono ubriaca di vino, però il circolo in questo è sempre, insomma vanno abbondanti di vino. No, io non vorrei parlare soltanto di Paola perché esattamente come dice Cecilia, Paola è una donna che si definisce attraverso gli uomini, ma è una donna in realtà generosa soprattutto con le donne, quindi io ho potuto viverla in questa veste, ma vogliamo parlare del libro perché ha scritto un libro, cioè lei non l'ha accettato ancora di averlo scritto, di aver scritto un libro, non ha ancora interiorizzato. voi siete qui per farle capire che ha scritto un libro pubblicato che la gente comprerà, che leggerà da domani, alcuni di noi l'hanno già letto e quindi insomma è un evento importante stasera, io sono molto emozionata di essere qua a tenerti la mano. Allora io visto che ho fatto i compiti a casa volevo dire una cosa per presentare il tuo libro, che ci sono dei libri che fanno venire voglia di leggere e ci sono dei libri che fanno venire voglia di scrivere. Secondo me questo è un libro che fa venire voglia di scrivere, nel senso che è un libro talmente sincero, è un memoir, insomma è un'indagine sulla tua vita, su quello che è stata la tua vita fino a qui, sulle sorprese che nel bene e nel male ti ha riservato la vita, è un libro che a me ha fatto venire voglia di scrivere, cioè la mia storia come credo che sia, ti ritrovi in questa definizione. Ma sì, perché ad esempio delle persone che avevano già comprato il libro, perché se tu lo compravi tramite Gallucci ti arrivava subito, anche se nelle librerie arriva domani, quindi persone che avevano letto il libro e che mi scrivevano via whatsapp delle robe che riguardavano loro, nel senso che leggendo le cose che raccontavo e che riguardavano me, evidentemente facevano venire in mente alle persone che leggevano degli episodi delle loro vite e immediatamente avevano voglia di condividerle con me, quindi tra l'altro a me farebbe molto piacere perché io penso che questo libro che è un po' normale è il coraggio di raccontare la normalità, la normalità che tutti noi viviamo e tutti noi viviamo delle robe molto felici, viviamo delle robe medie e viviamo delle robe tristi, però pensiamo che non valga la pena di raccontarle. Allora, se io ho dato il là a questa roba, al fatto che si può anche raccontare la normalità di persone normali, non eccezionali, sono molto contenta, quindi se tu mi dici che questo è un libro che fa venire voglia di scrivere, sono contenta, aspetto il tuo. Ma io non gli ho scritto i tre, ma il quarto, il quarto, il quarto. No, sì, comunque è vero che ci si ritrova tantissimo nelle pagine, ognuno si può ritrovare in questa sorta di spirale della memoria perché poi l'andamento, il format, te lo dico con un termine pubblicitario, è quello dell'album fotografico, cioè ogni capitolo del libro di Paola inizia con una fotografia e da questo album c'è proprio la sensazione di sfogliare piano piano la tua vita, quelli che sono i punti importanti della tua vita. La sensazione che ho io fortissima leggendo è questa nostalgia che è il tema dominante di tutte le pagine. Racconto brevemente una cosa che succedeva nei viaggi in macchina con mio padre quando ero bambina, mio padre è vissuto in campagna, è nato in campagna, ogni volta che si attraversava la campagna piemontese c'era un momento in cui c'è quella classica puzza piemontese, quella puzza di merda, diciamoci la verità, che lui inalava con grande felicità perché gli ricordava i fatti della sua infanzia, noi figlie invece eravamo tutte coperte e non volevamo sentire. Allora da lì ho dedotto che la nostalgia è quella cosa che fa diventare romantica anche la merda, esattamente la nostalgia che cos'è per te, cioè come è agito nella scrittura di questo libro, lo sento nostalgico solo io, com'è andata? Ma allora sicuramente una parte di nostalgia c'è ma è una nostalgia che si mescola con con la riflessione sull'infanzia perché a me è sempre colpito il fatto che il periodo che noi passiamo con la nostra famiglia d'origine è brevissimo rispetto all'insieme di una vita, cioè noi passiamo nella nostra famiglia d'origine, se abbiamo una vita diciamo di lunghezza normale un quinto più o meno dell'intero della vita, eppure quel quinto dell'intero della vita determina tutto il resto, nel senso che quello che noi siamo stati da piccoli poi alla fine nel bene o nel male, in positivo o in negativo, riverbera su quello che saremo poi fino alla fine dei nostri giorni, quindi da qui parte la riflessione, infatti ho messo all'inizio di questo libro due citazioni, una da Rilke e una da Teresa Ciabatti, ma che dicono sostanzialmente la stessa cosa e che illuminano quel periodo speciale e che tutti che siamo qua abbiamo vissuto che quello dell'infanzia, infanzia felice, infanzia non felice, infanzia con problemi, infanzia senza problemi, non importa, però quel periodo lì poi alla fine informa, nel senso mette in forma tutto quello che tu sarai dopo. E con questo libro io ho cercato di guardare con lucidità e distacco proprio gran parte di quel periodo che è la mia infanzia, ma che potrebbe essere l'infanzia di tante persone, cioè di tutti. L'importante però credo che sia mettere quella distanza, perché se tu racconti le cose intanto che stanno avvenendo non hai la capacità di capire il senso. E probabilmente io sono riuscita a scrivere queste cose dopo che le ho macinate nella mia testa, nella mia mente, nel mio corpo per tutti questi anni e poi alla fine c'è stata la distanza giusta che mi ha permesso di raccontarle senza troppi sentimentalismi, senza troppi giudizi, senza troppe partecipazioni e credo che sia esattamente questo che fa sì che poi alla fine tu mi dici io lo leggo e riconosco delle parti di me, perché se siamo troppo coinvolti siamo anche troppo poco lucidi e troppo poco capaci di capire il senso delle cose. Però questo non è un libro sull'infanzia, è un libro sulla vita di una donna? No, no, non è un libro sull'infanzia, c'è un prima e c'è un dopo, ci sono tante cose che riguardano me piccola, me adolescente, me giovane donne e poi ci sono tante cose che riguardano il mio presente. Però il fatto di partire dall'infanzia, quindi dai ricordi di quando ero piccola, è proprio anche per spiegare un po' quello che sono diventata. L'idea era quella, giustamente come dicevi, di partire dalle fotografie, perché a me piacciono tantissimo le fotografie, spesso mi ritrovo a guardare le fotografie e guardando le fotografie a volte mi capita che ci sono degli oggetti che sono fuori scena, che non sono il fuoco della fotografia e che non avevo notato nel momento in cui la fotografia era stata fatta, ma quell'oggetto fuori scena riverbera di senso tutto il resto, no? Ho cercato con questi racconti di raccontare quello che sta fuori scena, ma che determina la scena. E così ci sei riuscita? Ne parlavamo prima con Cecilia di questo. Sì, ci sei riuscita in un modo bello, perché veramente è in un modo che prende in considerazione le cose che sembra che non valgano niente, i dettagli trascurabili. E invece sono, Parola dice una cosa molto bella, dice si vive di cose inutili, cose che sembrano inutili, ma si vive di cose inutili. Anzi, le cose più belle sono le cose inutili, l'amore più forte è quello che è fine a se stesso e l'amore è fatto di tempo da perdere, di cose da inventare, non di schemi. Questo è molto bello, è un'altra cosa che mi ha molto colpito, sono i tuoi 47 anni. 47 per me è un numero un po' magico, perché mia madre aveva 47 anni quando, mia madre è morta da tanti anni, mia madre aveva 47 anni quando ha lasciato in qualche modo la sua vita precedente, che era una vita di insegnante, e ha iniziato la sua vita nuova, fondando Emergency, ha 47 anni, ha cominciato la sua vita numero X, diceva, la sua vita numero 4. Tu a 47 anni sei stata costretta a cominciare una nuova vita e dici io a 47 anni mi sono trovata a metà, in un viaggio, alla metà del viaggio, però di colpo mi sono trovata la sola in questa metà di un viaggio che avevamo cominciato in due. E questi tuoi 47 anni che sono di perdita e sono poi di reinventarsi, di riscoprirsi, di guardare se stessa, di guardare se stessa non nella coppia, non come madre, come chi sono? Sono Paola. Chi sei tu adesso? Una domandina facile ti ha fatto. Per metterla a suo agio, perché giustamente volevamo metterla a suo agio, abbiamo un po' studiato. No, poi tra l'altro, non vorrei che pensaste che io sono presuntuosa e che quindi la mia vita vale la pena di essere raccontata, in realtà tutte le vite valgono la pena di essere raccontate, io ho provato a raccontare la mia pensando che servisse a condividere le vite degli altri. Io a 47 anni, sì, ero a metà di tutto, perché a 47 anni si è a metà di tutto, mi sono trovata sola, perché l'uomo della mia vita, l'uomo che aveva contribuito a creare il mio equilibrio, che era stato il mio porto nel mondo, in un mare in tempesta, se n'è andato e mi sono trovata con un bambino piccolo ed ero veramente a metà di tutto, perché se ci pensate, un conto è se si rimane senza l'uomo della tua vita, non so, 30 anni o a 70, hai tempo per ricostruirti la vita se succede a 30 anni e sei appagato della vita se succede a 70, ma se succede a 47, tu sei a metà di tutto, perché stai ancora costruendo e io stavo ancora costruendo con mio marito quando se n'è andato e quindi ho sentito un vuoto vertiginoso senza di lui, un vuoto vertiginoso che mi ha fatto cadere, mi ha fatto perdere. Però per fortuna c'era mio figlio e c'erano i figli di mio marito del presente matrimonio, ma che erano parte fondante della mia vita e quindi quando si ha dei figli non si può lasciarsi andare più di tanto e da lì ho provato a ricominciare, a ritrovarmi come me, come persona. Non ho ancora finito, quindi non ho ancora finito, però ad esempio scrivere è stata una cosa per me molto liberatoria, però ci tengo anche a dire che il mio scrivere non è stato una roba totalmente liberatoria, è stata una roba controllata, nel senso che nello scrivere io mi sono data delle regole che derivavano dalla me lettrice e la me lettrice è una lettrice molto schifiltosa, molto severa e quindi ho cercato di scrivere immaginando di leggermi e quindi stando attenta a evitare di essere autossolutoria, autoconsolatoria e tutte queste robe qua che vengono fuori in un diario e quindi ho cercato di scrivere mettendo la distanza dalle cose e questo mi è servito molto e credo che abbia fatto sì che la storia che ho raccontato che è la mia e che è fatta per flash, per fotografie, per immagini ma non per racconto ordinato, cronologico, possa essere la storia di tanta gente. Senti, tentiamo una, io tenterei un esperimento, che dici Cecilia, tu sei d'accordo? Anche perché se no siamo troppo serie, io mi sento un po' seria. Ma più che altro perché hai preso questo nodo anche un po' così, su, su, un po' con la schiena, su. No, no, mi tiro su. Che poi il libro non è un libro da ridere. Non è un libro da ridere, ve lo posso assicurare, non è un libro da ridere, è bellissimo ma non è da ridere. Non è da ridere ma non è neanche poi da piangere. Un po' da piangere, un po' da piangere, però non è da ridere. Però c'è un capitolo che si intitola Le mie morti, no? È più allegro. E quello proprio la senta un picco di... Esatto, però c'è un capitolo che si intitola Felicità. Sì, c'è un capitolo, vuoi leggerlo? Vuoi leggere l'esperimento? No, l'esperimento, scusa, mi stava naturalmente distrutto, perché in realtà Paola di solito è quella che intervista. Esatto, infatti io mi sento un po'... E' un'esperimento, probabilmente adesso ci farà delle domande. No, no, io le farò le domande perché mi sento un po'... Perché fammi fare un attimo di autocoscienza. Sì, vai, vai che stai andando forte. Piccola. Però non mi guardate tutti così. No, guardate di là. Giratevi tutti verso l'alto. Tutti di spalle perché nel senso... Non siate così come se fossimo una presentazione seria. Allora, io normalmente... Tantateci da bere. Adesso... Allora, io normalmente nella mia vita... Tutta, io sono una che porta avanti gli altri. Cioè, spingo avanti gli altri. Cioè, vai avanti tu che a me viene da ridere. Così, sostanzialmente. Io ho passato tutta la vita a promuovere gli altri. Quindi questo passaggio di essere io davanti è una cosa che sto vivendo malissimo. Quindi vi prego... Giratevi. No, visto... Andate via. No, visto che... Visto che la mascherina ci impedisce di vedere le... Almeno con gli occhi, comunicatemi che state capendo questa cosa. Ok. Quindi io normalmente passo la vita a fare domanda agli altri. sui libri che scrivono, sugli spettacoli che organizzano. Oppure ad organizzare... Cioè, c'ho le mie amiche lì, Federica e Simona. Cioè, organizziamo mille cose. E stiamo sempre dietro, no? Quindi a me sto fatto di essere davanti mi sta da un lato emozionando. Scusate, perché la vanità è una roba che credo appartiene... A chi non appartiene la vanità? A nessuno. Non fate finta di niente. Allora, è una roba che da un lato mi emoziona... Sto prendendo... Sto diventando di nuovo io. Ok. Allora, da un lato mi emoziona e dall'altro mi terrorizza. Questo lo potete capire. Fate sì con la testa. Vi farà fare il giocajue, se continua così. Io vi assicuro, finiremo lì. Io lo so. Io volevo fare un esperimento piccolo, ma faremmo il gioco al mio... Battiamo le mani! No, vabbè, però per dirvi... Vi ho fatto un piccolo momento autocoscienza per dirvi che... Cioè, tutti noi siamo inquadrati in ruoli, no? C'è la casalinga, l'impiegata, la manager, la maestra, la professoressa, no? Ma in realtà ognuno di noi è un universo di mondi diversi e complicati. Magari anche contraddittori, no? Quindi io, che sono una che si occupa tendenzialmente della promozione degli altri, ci ho avuto un rigurgito e ho detto sapete cos'è? Parlo di me. Ma questo può succedere a tutti perché noi tutti siamo un mondo, siamo fatti di mille sfumature, di mille cose diverse. Quindi io spero che il coraggio che ho preso io e che vi assicuro, mi sono fatta mille paranoie, Enrica lo sa? Fai sì con la testa? Mille, sì, faccio sì. Cioè, alla fine lo possono prendere tutti, non necessariamente nella scrittura, possono essere altri campi della vita, la scrittura, lo spettacolo, lo sport, non lo so, mille cose in cui ognuno può essere qualcosa di diverso rispetto all'immagine che gli altri hanno di lui o di lei. No? Questa è la faccenda. Questa cosa io la chiamo libertà. Eh, libertà. Però la libertà non è così facile da assumere. No, applaudiamo pure. Cioè, la libertà è una cosa difficile. Il coraggio della libertà è una cosa difficile perché poi ognuno di noi che dentro di sé ha mille mondi poi è pronto a giudicare l'altro, no? E quindi questo giudizio che ognuno ha sugli altri è una cosa che blocca la creatività che c'è perché ogni persona è un mondo, ogni persona ha mille cose che non si vedono di primo acchito, no? Quindi io spero che questo mio coraggio che vi assicuro è stato infinito, quindi spero che mi aiuterete a sostenerlo insieme a me, aiuti il coraggio degli altri. Mi è piaciuto questo? C'ho avuto un attimo di compartita. È stato un titolo con vizio bellissimo. Mi è piaciuto, anzi, guarda, io ti... Da tanto adesso... Dopo arriviamo all'esperimento, anzi, vi dico l'esperimento, così almeno... Perché ne avevamo parlato un po' prima con Cecilia, abbiamo... Però poi non siamo arrivati al punto, però forse ti arrivo al punto. Siccome è un album di fotografie e ogni capitolo ha una fotografia che è l'ispirazione poi del tuo racconto, chi vuole, alla fine di questa presentazione, se ci racconta una foto della sua vita, una qualcosa... Perché tu dicevi giustamente che le fotografie hanno un mondo dentro che... Perché in realtà noi guardiamo le fotografie, ma sono le fotografie che ci guardano, soprattutto quelle dell'infanzia. Io ho perso mia mamma da poco, tu sei tra l'altro venuta al funerale e io rivedo adesso, ci sto riguardando ora le foto della mia infanzia e sono loro che guardano me. Cioè non è il contrario, alla fine è veramente una magia. Quindi se avete voglia, dopo Cecilia dominerà questo momento in cui tu farai la... Sì, tu dominerai, non lo sai che dominerai. E chiedere chi vuole raccontarci una foto che potrebbe essere l'inizio di un racconto, ma proprio una cosa brevissima. Va bene? La foto che non è necessario che sia una foto vera. Ve la sentite? Però reagite, vi prego, cioè non state tutti duri. Ma poverini, ma c'è... No, però vi prego, non state tutti duri. Stiamo dicendo delle cavolette. Non state tutti duri. Paola, ma c'è la pandemia, devono stare fermi, seduti nel loro posto. Hanno una faccia sotto che sta sorridendo. Hanno applaudito tante volte. Siete felici? Sì. Fate così con le mani. Non l'hanno fatto tutti. Dietro non siete felici? Su, tu mi piegata. Sono meno felici. Sono felici tutti. Paola, sei tranquilla. Sono felici tutti. E no, dicevo, leggiamo il pezzo, perché questa cosa della libertà, secondo me, c'è un'immagine del tuo libro. Quale? Quella del nuoto, quella dell'affogamento, che poi è l'inizio. È l'inizio? È l'inizio. Lo leggi, perché secondo me... C'è tutto? Sì, tutto. È troppo lungo? Noioso? No, allora, poi vi devo dire una cosa. Allora, questo è un libro breve. Niente, non ce la facciamo. No, no, ma aspetta. Non è possibile? Lo leggo. Però questo è un libro breve. Se io leggo troppo di questo libro... Ma loro non lo fotocopiano, lo comprano. Vedo che lo comprano. Però io sostengo la compagna Farinetti, non lo devi leggere tutto, secondo me. Ma secondo me non tutto, eh. Io sostengo il pubblico. Prima della fine, così devono comprarlo per scoprire se sei sopravvissuta oppure no a quei flutti che volevano mangiare. Vabbè, leggo il racconto che dà il titolo al libro che si chiama Tuffi di superficie. Lo leggo io? Non puoi leggerlo tu? Ok. Mi fa un po' di emozione. Vuoi che lo lega io? Allora, che mi piace, ce ne facciamo un po' se vuoi. No, no, lo leggo. Ci diamo il cambio. Lo leggo tra l'altro. Avete visto come siete, siamo carine, tutte vestite come le coriste di Neri per caso. Cioè, lo possiamo leggere così? Tra l'altro, questo racconto che parla della Sardegna, che per me è una regione molto importante, si parla molto della Sardegna in questo libro e questo libro è stato concluso in Sardegna a novembre del 2021 ed è un racconto che ho letto ai miei cognati e alle mie cognate in un pranzo a casa di mia cognata Silvia, quindi loro lo conoscono già e loro mi hanno detto bello però questo racconto e mi ha, come dire, convinto ad andare avanti ed è un po' il senso di tutto il libro. Allora, vado. Sono sempre stata una brava nuotatrice, senza paura. Quando mi capitava di leggere di gente affogata d'estate col mare appena un po' più gonfio del solito, davvero non riuscivo a capire. Soprattutto se a morire non erano bambini o vecchi, ma uomini nel pieno degli anni e del vigore fisico. La forza del mare non l'avevo mai capita fino in fondo e invece una volta è successo anche a me di stare per annegare e se mi sono salvata è stato soltanto perché, non so come, ho intuito che al mare non bisogna opporsi come verrebbe distinto, ma assecondarlo, inchinarsi alla sua potenza, lasciarsi andare. Salto un pezzo. Qui c'è mio figlio che va a fare il bagno, io non mi rendo conto, è tutto apparentemente normale, ma poi vedo che, insomma, poi di improvviso succede che c'è un cappannello di gente sulla riva, proprio là dove il mare bacia la terra e l'onda si infrange. vedo braccia che si muovono, ma anche se non sono lontana non sento le voci. Il vento fischia forte e le porta via, però le immagino perché le mani sventolano, si agitano, le bocche si muovono e vedo anche una ragazza sola che esce dall'acqua come una sopravvissuta e si butta sulla sabbia sfinita. Mi avvicino ma ancora non capisco bene, mio figlio è sempre a due bracciate da riva, mi sembra quasi di toccarlo. Esci, gli urlo, esci subito e sono quasi arrabbiata. Non ce la fa, non ce la fa, dicono in coro intorno a me. Ma come? mi chiedo io. E arriva. E allora mi inoltre ho deciso nell'acqua, le infradito marroni ancora ai piedi. Gli tendo la mano e invece sprofondo nel mare, quasi non capisco più niente. è un gorgo, un mulinello che mi spinge a fondo ogni volta che cerco di risalire. Uno scontrarsi di acque diverse che battagliano di sotto e io ci sono in mezzo e anche mio figlio. Siamo a pochi centimetri l'uno dall'altra eppure non riusciamo a raggiungerci. Ogni movimento ci riporta indietro e poi sotto a sbattere sugli scogli invece di avvicinarci. Ricordo che pensavo non devo perdere le ciabatte. L'alluce e il secondo dito assurdamente inutilmente stretti e l'infradito come se in quel momento fosse la cosa più importante. E intanto cercavo di raggiungerlo. Gli urlavo stai calmo arrivo dammi la mano e poi sprofondavo a due bracciate da riva. La gente schierata ci dava indicazioni di qua di là ma non si muoveva. Poi non so come con le gambe e con i piedi riesco a dargli un calcio forte poi ad afferrarlo con la mano e a spingerlo quasi a lanciarlo come fosse una palla verso una roccia che sfiorava l'acqua ed era già quasi terraferma. Aggrappati gli urlo col fiato che già mi manca non lasciare le mani e striscia fuori. E così lui fa è tutto scorticato ma salvo e più lui si avvicina alla terra più il mare mi portava a largo e andavo sotto e poi tornavo su e per quanto cercassi di nuotare verso riva non mi spostavo di un metro e anzi mi allontanavo. Combattevo come una furia ma stavo perdendo. vedevo la riva vicina tutta la gente che orlava mulinava le braccia ma quasi non sentivo più le loro voci vedevo le villette delle vacanze bianche schierate in alto una vicina all'altra e poi il cielo e gli alberi e il sole ho fotografato tutto così vicino ma così irraggiungibile ho pensato finisce qui con questo sole negli occhi il rumore del vento e del mare queste case di cattiva fattura queste braccia agitate ma al sicuro sulla terra ferma ho lasciato andare un infradito persa nel mare poi mi sono lasciata andare anch'io abbandonata nelle orecchie soltanto il suono dell'acqua che guerreggiava ed è stato in quel momento che mi sono salvata smettere di combattere mi ha fatto recuperare le forze e il respiro poi continuo ancora ma io mi fermerei brava io ho voluto che lo leggetti perché secondo me è la chiave di lettura di questo libro ma anche un po' di come credo che si debba affrontare un momento il nostro momento proprio storico e privato cioè quello di ogni tanto abbandonare lasciarsi andare è vero perché quando si è nel pieno di una crisi nel pieno dei problemi e che si è arrabbiati e che appunto si vuole combattere quella per me è stata una lezione importante quella che per salvarsi bisogna smettere di combattere smettere di arrabbiarsi non so se l'ho imparata ma in quel momento ho capito che quello è il senso è la risposta che si deve dare ai problemi alle complicazioni alle arrabbiature lasciare andare e la lasciamo andare sto libro cioè è il tempo di lasciarlo andare non lo so tu come ti senti nel momento in cui lo stai lasciando andare come si sente lei aveva il dubbio di ma forse possiamo andare a bruciare ogni copia che ci sarà già distributa sì ne abbiamo parlato prima ma siete sicure abbiamo detto no non andremo a distruggere ogni copia che già è in libreria ormai no vabbè domani domani sarà in libreria e poi sarà la fine di tutti quelli che lo leggeranno di chi mi conosce di chi non mi conosce ci sarà gente che ne pensa bene gente che ne pensa male credo di essere abbastanza pronta a questo punto l'ho assunto io credo che tu sia pronta che siamo pronti pronti tutti anche pronti tutti loro sicuramente sono sono pronti a leggerlo sicuramente allora io di solito le presentazioni le amo stringate perché poi c'è il momento quanto tempo è passato lo so Paola non lo so però io non vedo reazioni da parte loro Paola è normale hanno la mascherina fate un altro applauso per favore no scusate però cioè dovete capire per favore fate una standing ovation no no la standing ovation no 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 ancora più in imbarazzo adesso lo sai adesso così è troppo è troppo è troppo però se volete leggiamo un altro pezzo non so sì leggiamo un altro pezzo l'unica cosa che volevo dire è che loro io c'ho il problema io c'ho il problema di Simona che mi giudica Simona Simona va bene va bene neanche tanti neanche tanti però poi però mi fate sapere dopo che l'avrete letto ci sarà il momento del firmacopie nel momento del firmacopie ma il firmacopie è una cagata scusa se lo dico però è un bel momento il firmacopie perché il lettore è un bellissimo momento per un autore il firmacopie il momento in cui incontra i suoi lettori esatto e scambia uno a uno e il lettore non ha ancora netto cioè sulla fiducia sulla fiducia allora il lettore verrà sulla fiducia a farsi firmare il libro di Paola Farinetti con Dedica l'autrice più difficile dell'anno io sono stanchissima Cecilia non lo so dopo andiamo a bere assolutamente finiamo di bere quello venite datele una pacca sulla spalla raccontatele la vostra fotografia sarebbe bello no ma anche adesso davanti a tutti volete farlo davanti a tutti? no c'è però qualcuno vuole farlo davanti a tutti lei dice sì dai vai chi? ce n'è uno ha fatto così con la mano aspetta che che pamica aspetta mamma mia no 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 ma è parto male ma dai diamanti non nasce niente dall'età mi nascono i fiori no è sulla sull'età che sentiva il padre della signora che è il profumo di Piemonte e l'immagine che mi è venuta in mente è quando la signora il microfono più vicino per favore più vicino sono sorda grazie pronto sono tre cugini con delle vecchie bici da corsa in un'estate grosso modo inizio anni 90 la maglia della Scozia è un cartello con un'altimetria che per un ragazzo normale è un sogno mille metri il faialo sull'appennino per un torinese è stata una grande conquista ed è già bestseller nel libro nel libro c'è un capitolo che si intitola i luoghi del cuore intanto che Enrica fa come Pippo Baudo che gira l'ho inventata io Anna Funtola comunque c'è un capitolo che si intitola i luoghi del cuore che secondo me può stimolare tutti a pensare ai propri luoghi del cuore perché io una decina di anni fa ho conosciuto una persona che non capivo bene cosa voleva fare ma voleva fare un'app ma all'epoca dieci anni fa sentire parlare di app era una roba strana dei cuori nel senso di fare una mappa sentimentale dei luoghi importanti della vita di ogni persona quando lei mi ha raccontato questa storia di questa app che voleva fare io non è che ho capito tanto però evidentemente questo pensiero mi è rimasto tanto nella testa e ho riflettuto molto e ho pensato che il mio planisfero emotivo la mia mappa sentimentale è fatta di luoghi piccoli ovviamente ognuno di noi ha delle storie importanti il giorno in cui si è laureato il giorno in cui è nato tuo figlio il giorno in cui è morta tua madre o tuo padre insomma sono date importanti pietre migliari della vita ma in realtà ci sono delle altre robe piccolissime che quando le vivevamo noi non ci rendevamo neanche conto che erano così importanti e che sono collocate in un luogo preciso e in un momento preciso e che sono piccole robe e lì io ci metto un cuore dell'app di Maffe che mi ha raccontato ad esempio un posto del mio cuore è Capo Comino Capo Comino sta in Sardegna un posto dove ci sono le alghe che si spiaggiano dove c'è l'alta e la bassa marea un luogo bellissimo dove ci sono le dune di sabbia ma non è per questo che è importante è importante perché io ogni volta che vado lì rivedo me che schiaccio le pustole cioè una roba a mio marito e intanto mio figlio nudo piccolo gioca nell'acqua una roba da niente ma le nostre vite sono fatte di robe da niente quindi io ho scritto questo capitolo che si chiama I luoghi del cuore perché spero che ognuno leggendolo pensi ai propri luoghi del cuore che sono luoghi piccoli ma che sono quelli che costruiscono le architravi della nostra vita caras ce l'abbiamo quasi fatta ce l'abbiamo quasi fatta quanto è passato è l'ora no no tocca fare ancora cinque minuti ancora no no io le faccio ancora da contratto cioè ormai siamo vero che siamo nella rilassatezza più totale cioè va benissimo ho visto anche allora c'è una domanda da Roberta allora Roberta è una persona fondamentale della mia vita adesso non sembra che qua ci sono i miei cognati la mia amica la mia socia cioè insomma una roba di famiglia c'è qualcuno che non mi conosce può alzare la mano pochi vabbè ok però avevo bisogno di essere sostenuta però ti stai divertendo tantissimo anche se non la conosci sei felice c'è una serata ok però volevo dire della mia amica Roberta Toscano perché questi racconti quando io li ho scritti allora io devo dire io scrivo da sempre da quando ero piccola sempre tanto scritto aspetta un attimo Roberta un attimo ti sto ti stavo annunciando allora io scrivo da sempre da sempre ho scritto tantissimo in tutta la mia vita il passaggio però tra lo scrivere per sé e lo scrivere per gli altri non è così diretto e semplice però in realtà questi racconti da quando ho iniziato a concepirli anche senza sapere che poi sarebbero diventati un libro li ho pensati per gli altri cioè quindi con un rigore una cura diversi e il primo passo è stato quello di costruire un blog tuffi di superficie che non è stato come il blog della mia amica Ricotesio non se l'è filato nessuno nessuno perché non avevate in cula nel titolo niente proprio non se l'è filato nessuno però in questo in questa avventura del blog ho coinvolto appunto la mia amica Roberta Toscano un'amica storica dai tempi dell'università e io ogni volta prima di pubblicare un racconto glielo mandavo tipo una settimana prima a sorpresa lei lo leggeva e dopo averlo letto tirava fuori una foto delle sue perché lei è una bravissima fotografa artista e decidovamo insieme quale foto migliore potesse raccontare per immagini il racconto che io raccontavo per parole evidentemente e quindi Roberta per me è una persona molto molto importante sentiamo cosa dice volevo solo dire che avete parlato dei delle cose che sono scritte nel libro ma non di come sono scritte perché sono scritte in un modo sublime non avete parlato dello stile è una mia amica allora vieni a presentarla tu allora vieni qua tu non lo so ci arriviamo è una mia amica è una mia amica hai ragione hai ragione infatti c'è c'è Gallucci che mi continua a mandare dei messaggi dicendo però non avete ancora parlato dello stile sublime della Farinetti no è scritto allora quello però lo lasciamo anche a chi a chi legge legge il libro non e infatti la domanda che ti che ti volevo fare era uno chi è il lettore a cui ti rivolgi chi pensi perché chiunque scriva pensa a qualcuno mentre scrive che dovrebbe essere il suo insomma il suo interlocutore questo di solito c'è alcuni libri sono stati scritti per riportare a sé degli amori andati insomma ci sono c'è un lettore e poi se tutto questo questo essere lettrice perché tu sei una lettrice vorace ti ha tolto ti ha creato del pudore nel momento in cui stavi scrivendo o il momento in cui invece hai iniziato è stato più più facile allora sì io sono una lettrice vorace anche raffinata mi mi vanto di essere una lettrice raffinata e e quindi mi sono fatta tanti problemi nello scrivere il mio lettore ideale è una persona inquieta è una persona che si fa delle domande è una persona che vede al di là della superficie questo è il mio lettore ideale che poi sia femmina maschio però una una persona che si fa delle domande perché sono quelle che mi sono fatta anch'io sulla scrittura io adesso sì abbiamo scherzato però io ci ho riflettuto tantissimo sulla scrittura e ho cercato di fare una scrittura spero che un po' si sia capito da quello che ho letto una scrittura semplice apparentemente fatta di parole che usiamo tutti i giorni ma in realtà molto controllata per mettere quella distanza di cui parlavo prima spero di esserci riuscita poi me lo dirà chi legge però insomma è una scrittura fatta di parole di tutti i giorni certe volte anche parole che normalmente non siamo abituati a leggere nei libri tipo merda chiamare merda le feci è una roba forte mi sono resa conto io intanto che lo scrivevo quindi fatta di parole tutti i giorni anche forti però credo e spero che venga fuori anche il controllo che io ho messo nell'usare queste parole semplici tutti i giorni per far intravedere appunto quell'inquietudine che a me appartiene ma credo che appartenga a tante persone secondo me ci sei riuscita io secondo me il libro di Paola ricorda e ti ho detto subito quando l'ho letto Imenward dell'Arnò cioè ha quella non so voi che sono gli ignoranti non sapete chi è l'Arnò no scherzo vi devo dire che dopo che Enrica me l'ha detto di questa Arnò io sono andata a leggerla perché non l'avevo letta e in effetti ci ho trovato dei collegamenti però dei collegamenti che non perché io non l'avevo letta me l'hai detto tu ricordi l'Arnò l'ho letta e ci ho trovato dei collegamenti poi dopo di che lei è una grandissima però insomma io ci tengo questa cosa che ho controllato molto la scrittura non è veramente una come dire uno sfogo di una che ha sofferto tanto ma insomma ho ho cercato di fare in modo che la scrittura mediasse tra l'urgenza del raccontare e le cose che volevo raccontare un reader ci sei riuscita è una c'è una minuzia anche nella ricerca cioè si vede che un'opera di Cesello è stata una rilettura costante anche delle cose che hai scritto quindi insomma poi saranno loro a darsi dei pareri quando l'hanno letto c'è una domanda c'è una domanda Francesca mi concordo su questa cosa che state dicendo adesso ho avuto il privilegio di leggerlo un po' di tempo fa no allora voi dovete sapere che no aspetta e no ma no spieghiamo perché c'è poi alla fine io parlo a lei che è l'unica che non mi conosce e quindi allora visto che non mi conosci allora io qua non si sa non si sa portata da Paola che mi conosce quindi in realtà mi conosce ok va bene comunque quando ho iniziato cioè avevo questi racconti che giravano da un po' li faccio leggere a Francesca che è la super esperta di letteratura mondiale un po' timorosa e anzi molto timorosa senza un po' timorosa perché so che poi lei è una che dà dei giudizi terribili feragli se le cose non le piacciono quindi preferisco incontrare un lebroso per strada che non qualcuno che mi dica un libro nel cassetto te lo mando ormai parliamo solo a lei parliamo solo a lei è meglio il lebroso che il libro dell'amica per me ormai quindi ero prevenutissima e terrorizzata però tendo a dire la verità no e posso dire invece l'ho letto e ho subito dimostrato un grande entusiasmo verso il tuo libro esatto e mi spingeva ad andare avanti andare avanti e continuo a dirmi continuo a dirmi questa cosa che è anche un po' imbarazzante hai una voce hai una voce continuo a dirmi hai una voce hai una voce e alla fine alla fine intanto è un libro sono ancora più terrorizzata quando è un libro semi autobiografico perché lì è proprio l'orrore della memoria personale ormai si parla solo a lei segnalo che stiamo parlando solo a lei vai dall'analista sfogarti non scrivere non consegnare un altro libro di sfogo al mondo non ne abbiamo bisogno per carità invece quello che mi ha colpito era questa forza proprio evocativa delle parole del racconto che ti trascina che ti emoziona e ti inquieta unito però a questa cosa che tu dici del controllo che è lo stile cioè non scrivo per sfogarmi quindi non lo tengo nel cassetto ma scrivo con una sorta tu lo chiami controllo io dico stile per cui la mia storia mediata dalle parole che sono ricerca stile eleganza e anche forze evocative potenza una potenza anche che ti inquieta che ti sconquassa diventano una storia di tutti e per questo c'è secondo me che consente proprio il rispecchiamento che è un po' la magia che fa la letteratura la buona letteratura e poi ho notato che era un libro privo di narcisismo che è anche una cosa stranissima perché il narcisismo è subdolo gli scrittori tendono a infilarcelo prima o poi nelle pagine anche quando fanno finta di spogliarsi penso a yoga di Carrer in realtà tu ci vedi un po' la manipolazione mi metto a nudo e sono ancora più paraculo invece il tuo è proprio è stato un mettersi a nudo quasi incauto cioè quasi dirti ma come hai fatto e quindi sì questo elemento qua l'assenza di narcisismo non è per nulla geografico non è per nulla compiaciuto è proprio io direi che più che un libro di nostalgia mi è sembrato quasi un libro proprio con un tratto esistenziale come ce ne sono pochi e quindi adesso lo ribadisco davanti a tutti vabbè allora io te lo dico è finito il tempo cioè io non so come dirtelo vuoi che legga le mie morti l'inizio delle mie morti che così lasciamo dai lasciamo salutiamo con allegria no dai a parte gli scherzi cioè alla fine la morte è una roba che soprattutto da un certo momento della vita in poi è una cosa che con la quale tutti ci troviamo a confrontarci no e io penso che alla fine nell'esperienza della morte si fa anche il massimo dell'esperienza della vita cioè della finitudine della vita e e quindi boh un po' anche per mia storia personale ho riflettuto molto sulla sulla morte ma che è una cosa che come l'amore riguarda tutti poveri ricchi belli brutti no è un po' così vi inizio vi leggo l'inizio di questo allegrissimo capitolo che si intitola le mie morti mia nonna materna era sempre stata per me solo una vecchia con i capelli grigi e unti raccolti dietro la nuca seduta al tavolo della cucina vicino alla finestra la domenica pomeriggio niente di più però sono stata assente da scuola il giorno che è morta facevo la quinta elementare e la giustificazione era di quelle importanti da raccontare mia madre ha voluto che assistesse alla chiusura della bara la fiamma ossidrica e il legno che si chiude per sempre sul volto di mia nonna al quale la morte aveva regalato vent'anni di meno e una maestosità altera nell'espressione ho pensato nella mia ingenuità di bambina che non provava nessun dolore che dovevo invece dire una frase una frase importante intanto che mia mamma mi stringeva la mano e lei si piangeva che le sue radici si stavano tagliando per sempre e così ho sussurrato ma la donna ma la nonna non può respirare più se la chiudono lì dentro soffocherà e mica ci credevo sapevo già cosa voleva dire morire smettere per sempre di respirare sparire alla vista ma ho finto la sprovvedutezza così mia madre si è chinata a sorriso mi ha carezzato e mi ha voluto più bene poi continuano ti vogliamo tanto bene venite a firmare la vostra copia da Paolo a far firmare scusami a far firmare da te la copia come siamo andati scusa devo dire ancora due cose se io sono la conduttrice scusa è tardissimo no lo so lo so però devo dire due cose uno è che vi chiedo al di là come siamo andate così fate oui non bouff oui ok la seconda è che Cecilia oltre a essere una mia amica non si occupa più di emergency voglio dirvelo nonostante si chiami Cecilia strada e tutto ciò richiami emergency che continua a esistere che è una roba importantissima però lei ha deciso di mettere cuore testa e animo in un'altra cosa che si chiama rescue c'ha la spillina lì che si chiama rescue andate a vedere su internet cosa vuol dire si scrive resk con la q normale ok rescue nasce da quattro amici al bar tre forse che stanno a Milano cioè in un posto dove non c'è il mare e che dicono ma che cavolo possiamo fare noi per questi che muoiono in mare e sono sempre di più sono sempre più tanti cosa possiamo fare noi che siamo qua a Milano che stiamo bene che ci stiamo prendendo un aperitivo in questo bar e decidono questi tre o quattro amici al bar di comprare una barca una roba pazzesca tu sei di Milano manco cazzo sai cos'è il mare compri una barca ok compri una barca e questa barca la metti a posto e con la barca vai a fare per ora due missioni ma la terza sta per partire a salvare delle persone a metterle in condizioni di poter vivere poi sarà quel che sarà è una roba importantissima perché tutte le vite hanno diritto di esistere a prescindere da dove lo spermatozoo e l'ovulo si sono incontrate scusate la pippa ma io sta cosa ci credo davvero io ci credo ma lei muove il suo culo per andare a salvare la gente quindi andate a vedere rescue resc con la cu normale in italiano in inglese è rescue però insomma con la cuno cioè andate io mi sono iscritta ho fatto le donazioni fatele anche voi perché è una roba importante è una roba di civiltà permettere a uno spermatozoo e a un ovulo che si sono incontrati di poter continuare a vivere a prescindere dal luogo in cui questo è successo grazie e la seconda hai detto devo dire due cose no questa era la seconda cioè la prima era sei testimoni sei testimoni ha detto devo dire due cose no no ma la prima era eh no eh ah la prima era come siamo andati come siamo andati esatto però davvero la seconda la salviamo un po' di mare promettetevi che promettetemi vi prego che andate a cercare su internet rescue basta una donazione piccola iscriversi comunque dire ok io sono con voi perché è una roba importantissima io ci credo tantissimo nelle vite che devono poter avere diritto all'esistenza poi succeda quel che succeda però il diritto all'esistenza ci va e lei con altri tantissimi altri a partire dai tre amici al bar che hanno comprato una nave stando a Milano lo stanno facendo io ringrazio tantissimo Cecilia non solo per essere qua ma per quello che fa grazie a voi grazie a lei dobbiamo lasciarla dobbiamo lasciare Paola Farinetti che è Paola Farinetti punto questa sera a voi se la volete per domande firma copie grazie Paola grazie 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 ciao grazie